Gabriele Zappa Gabriele Zappa è il calciatore che ha realizzato tre reti e due assist insomma dopo quelli che erano gli attaccanti è stato certamente uno di quelli che ha reso di più anche in zona d'attacco ma d'altronde ne abbiamo parlato tante volte i calciatori che crescono nelle società sportive che sono votate l'attacco cioè nei grandi club Zappa lo ricordo è crescito nell'Inter si abituano nella storia giovanile ad essere da esterni più attaccanti che difensori tant'è vero che la grande crescita di Zappa è stata soprattutto nella fase difensiva una fase difensiva che gli ha dato maggiore sicurezza anche quando doveva spingere perché se tu sai fare bene la difesa e sei più tranquillo nel momento in cui riesci ad assolvere determinati compiti anche la fase d'attacco diventa più fluida i tre gol ripeto i due assist ne sono testimoni se poi l'assist arriva al 94esimo della finalissima e fa segnare Pavoletti insomma il Vauto vale 9